Elba in grigio verde è il titolo della mostra fotografica ed oggettistica sulla seconda guerra mondiale in esposizione in questi giorni a Capoliveri. Diciamo che quest'anno la particolarità è il fatto che c'è molta oggettistica oltre al materiale fotografico. Tutto materiale che abbiamo riperito nell'ultimo anno attraverso donazioni di amici, materiale trovato in giro per l'isola. Quindi diciamo che si completa un po' il tipo di mostra, da fotografica e basta, è diventata fotografica ed oggettistica. Una rassegna è arrivata alla terza edizione grazie alla passione dei ragazzi dell'associazione Elba Fortificata, che quest'anno vede anche la collaborazione della sezione bersaglieri dell'Elba. Al dispetto di tanta gente che dice che all'Elba non c'erano bersaglieri, all'Elba c'erano e ci sono stati, anche che abbiamo testimonianza della bicicletta che ce l'ha donata la dottoressa Fratte dello Schiopparello e che il settimo reggimento bersaglieri era a Portoferraio. E questa è una testimonianza molto valida perché anche qui quando si va nelle scuole si va a dire ai ragazzi i nostri caduti per la patria sono caduti per fare l'unità d'Italia tutta. Un'altra chicca di Elba Fortificata è il nuovo libro di Ruggero Elia Felli dal titolo 286 giorni all'Elba. Puoi leggere giorno per giorno gli avvenimenti, gli scontri a fuoco, tutto quello che è successo sull'isola d'Elba, dall'armistizio allo sbarco. Abbiamo recuperato foto negli archivi di tutti i paesi coinvolti nella guerra, quindi francesi, americani, inglesi, tedeschi, i piani originali dello sbarco recuperati in Inghilterra e abbiamo messo tutto insieme con la storia dei bombardamenti di Portoferraio giorno per giorno con i danni che sono stati provocati alla città di Portoferraio che è stata massacrata durante il conflitto. Ricordiamo a tutti gli amici di Tele Elba che sabato 24 alle 18.30 presso il Bar La Vela a Portoferraio presenteremo l'ultimo libro di Elba Fortificata 286 giorni all'Elba e quindi vi aspettiamo numerosi per tutti i sostenitori dell'associazione.